Ciao, Andrea Giannangelo è fondatore di Ubenda, un servizio che genera privacy policy senza bisogno di avvocati o di entrare nel merito delle questioni legali. Per la descrizione del servizio rimando ad un'intervista fatta da Maria Petrescu qualche tempo fa in cui Andrea entra molto nel merito delle caratteristiche del servizio, del futuro e dell'evoluzione dell'applicazione. Quello che voglio invece approfondire oggi con Andrea invece sono gli aspetti più legati all'essere imprenditore. Andrea è giovanissimo perché hai, quanti anni hai? 22. 22 anni, hai in testa credo di fare impresa da quando era più o meno in asilo? Non esattamente. E ha fatto vari tentativi fino ad arrivare alla costituzione della sua prima società, cioè Ubenda SRL. In questo percorso non solo ha costituito una società, non solo ha fatto un prodotto, ma ha anche fatto con successo un primo round di funding da 70.000 euro. Allora, intanto vorrei andare per ordine. Nasce l'idea, hai bisogno di qualcuno con cui realizzare questo progetto, cioè difficilmente si riesce a lavorare da solo. Inizialmente ti interfacci con i tuoi cotanei. Intanto se mi racconti questa esperienza. Sì, diciamo che non è esattamente vero che ho iniziato, insomma ho sempre voluto fare impresa, ho sempre voluto fare progetti web. La cosa è iniziata quando avevo circa 11-12 anni e da quel periodo ho iniziato a lavorare insieme ad altre persone su progetti senza nessun fine di lucro o di impresa, semplicemente per divertimento. Da quelle esperienze nei dieci anni successivi sono nate tante amicizie sul web, persone che poi magari avrei conosciuto anche dieci anni dopo, per davvero. Con cui però ho costruito tante cose nel tempo, sono state fondamentali quelle esperienze per fare quella palestra che ora sto sfruttando. Circa tre anni fa però ho iniziato a avere voglia di fare qualcosa di più serio. Già c'era stata un'esperienza un po' più determinata che poi avevo però abbandonato. Però tre anni fa ho iniziato a dirmi, beh, su fare queste cose sul web voglio iniziare a metterle veramente in pratica per creare qualcosa di più sul lungo termine. Non progetti spot, ma progetti più seri. Il primo progetto che ho creato è stato Web Televideo, che è un sitarello che mette insieme il palinzesto TV. All'interno di quell'esperienza mi sono accorto più da vicino il problema della progress policy ed è quello su cui ho iniziato a lavorare successivamente. La prima cosa che ho fatto, mi ricordo, era giugno del 2009. Ho messo insieme un documento in cui ho steso l'idea in tre o quattro pagine. E ho condiviso questo documento con alcuni miei amici allora, con cui avevo fatto altre cose nel web e che speravo di poter coinvolgere. Purtroppo mi sono scontrato con la realtà durissima e molto frustrante. Credo che quell'anno sia stato estremamente frustrante, da quel giugno al giugno successivo, proprio perché io volevo fare qualcosa e non trovavo le persone o le condizioni per farla. Quindi mi trovo quasi bloccato verso qualcosa che volevo fare intensamente. Così comunque ho iniziato a parlare in giro di questa cosa, a condividere questo documento e a spiegare l'idea di Ubenda. Allora era una specie di creative commons per le privacy policy. Allora, proprio come idea embroniale, addirittura non mi interessava fare soldi. Io vedevo questa opportunità, c'era questa cosa interessantissima, che aveva creato i commons che però nessuno aveva esteso ad altri modelli, insomma ad altri documenti legali. E quindi da questa cosa qui, anche perché il mio background era ancora molto open source in termini così di visione, molto più open source che for profit, ho iniziato a chiedere in giro. E in quei giorni, insomma intorno a giugno, è nato un team di quattro persone, me qui inclusa, che ha iniziato a lavorare ma dava molto rilento. Una è una persona che conosco, insomma tutti quanti sono tuttora miei amici, ma con una persona lavoravo da molti molti anni, dovevamo fare otto forum, communities insieme, blog, eccetera, sin da quando eravamo piccolissimi. E poi c'era una ragazza di giroisprudenza e un programmatore. Per più di sei mesi abbiamo lavorato insieme senza produrre quasi nulla. Io cercavo di esprimare tutti quanti, ma l'impegno del progetto era sempre un po' l'ultimo, fra lo studio, uscire con gli amici, e vi dicendo che nessuno era mai disposto a rinunciare a qualcosa in termini di tempo libero e così di divertimento per creare qualcosa insieme. Che poi è una delle cose su cui mi sono scontrato da sempre quando ho cercato di coinvolgere i miei coetanei, anche successivamente, anche oggi, nel fare qualcosa. È davvero difficile trovare persone con una determinazione tale da studiare insieme e fare altre cose. Così si arriva all'inizio del 2010, in cui io mi rendevo conto che il progetto così, in quella maniera lì, non andava a nessuna parte. Così ho iniziato a cercare un'alternativa. Dopo aver parlato con tutte le persone che conoscevo, quindi aver in sostanza esaurito tutto il mio network di conoscenze, che era più o meno tutto con lo stesso tipo di mindset, per cui se faccio l'università non posso fare un'altra cosa, no, la sera, il sabato sera esco, non metto a lavorare, ok. Quindi scontratomi proprio di faccia con questa realtà, ho iniziato ad andare in giro a Bologna, ho visto alcune web agency per cercare di sviluppare il progetto con loro. Mi serviva assolutamente aiuto in termini di sviluppo, perché io sono front-ender, per esempio in termini di back-end ho assolutamente bisogno di aiuto, e quindi per fare un progetto web complesso da solo non ce la facevo, e quindi avevo bisogno di qualcuno dal punto di vista tecnico. Tuttavia, girando nelle web agency, anche parlando con loro in maniera più approfondita, mi sono accorto che loro non erano disposti a questo tipo di collaborazione, perché non erano abituati a scommettere su tutti i progetti, o comunque non ho trovato le persone giuste, forse anche per fortuna. Così in quel periodo c'è stata una cosa cruciale che non sempre dico, però comunque quando mi chiedono, non racconto quasi mai, però c'è stata una cosa fondamentale, cioè io in quel periodo all'università seguivo il corso di finanza, ed era credo febbraio 2010, e nel corso di finanza era tenuto da un professore che negli anni delle dot com ha fatto una start-up, questa start-up era Borse.it, e la start-up è andata male per loro, che però condivideva queste esperienze, e quindi comunque parlava di venture capital, parlava di mondo di capitale di rischio, quindi mi ha aperto un po' quella strada, così ho iniziato a vedere quali fossero gli investitori di questo tipo in Italia, semplicemente tramite internet, cercando, leggendo, e una delle prime persone, forse la più esposta, sia ora che in quel periodo, era Gianluca Dettori, così ho preso due o tre settimane per capire cosa fosse un pitch, come metterlo insieme, e poi gli ho mandato una mail con un pitch, con un deck di slides, non mi ha risposto, mi ha scritto ci vediamo fine maggio, questo giorno, vieni in mio ufficio e mi racconti. Da lì è iniziato un percorso di sei mesi per, io non avevo niente, non avevo il team, non avevo niente, è iniziato un percorso di sei mesi, di conoscenza reciproca, e che sono stati sei mesi per guadagnarmi la fiducia delle persone che poi avrebbero investito, considerando che io partivo con quasi nulla, con tanti progetti web alle spalle, quindi sicuramente della competenza, però ho pochissimo di realizzato, e neanche un team, quindi assolutamente dovevo costruire tutto, e non ho avuto, per fortuna la presunzione, e ho avuto la pazienza, anzi di aspettare e non chiedere subito niente, di dire, ok, tutto ciò che mi aspetto è che mi, tenete un occhio addosso, insomma, se mi vedete se in sei mesi, iniziate a fidarmi di me, vale la pena che, insomma, ci mettete anche soldi, e quindi, in quei sei mesi, io ho fatto tutto quello che potevo fare, non avendo, insomma, dovendo raccogliere un team, e non potendo subito, costruire un prodotto, perché appunto non avevo un team, neanche un prototipo, quello che ho fatto è stato tantissimo, castor di me, all'omento, ho parlato con tutte le persone, che ho incontrato, insomma, di quello che volevo fare, ed è stato fondamentale, perché ho capito tantissime cose, insomma, su come fare i passi successivi, e proprio in quel periodo, anche molto per caso, ho incontrato il mio socio, Futuro, che è uno sviluppatore, una persona che ha 16 anni più di me, e che ha, ha un'esperienza enorme, negli ultimi tre anni, insomma, tre, quattro anni, tre anni e mezzo, credo, era stato lì, developer in una startup web, quindi, comunque, io ho dovuto cominciare a lasciare quel lavoro, tra l'altro, e quindi, con lui, abbiamo iniziato a, insomma, a definire meglio le cose, e poi, addirittura, in quel periodo, stiamo parlando di Domenico Vele, Sì, in quel periodo, c'era, anche un altro ragazzo, che, doveva essere, la persona che aveva seguito, la parte legale del team, e, tuttavia, diciamo che, fino, forse, una settimana prima, dal, dal comitato di investimento, che avrebbe ratificato, appunto, il seed, lui era parte del team, poi, una settimana prima, ho iniziato a fare delle domande, un po' stringenti, in termini di commitment, alle persone che, insomma, che avrebbero costituito l'impresa, perché, il mio socio, avrebbe dovuto lasciare il lavoro, quindi, si trattava di capire, quale stipendio avrebbe preso, e quante quote, siccome lui prendeva stipendio o no, insomma, tutte piccole cose, che, a un certo punto, devi affrontare con i tuoi soci, ed è molto meglio, affrontare prima di, abbraccarsi seriamente, con il seed e con la costituzione, e quindi, proprio in quei giorni, a febbraio di quest'anno, 2011, quando, sulla carta, era tutto deciso, con gli investitori, iniziato a mettere alla prova il team, le persone che, insomma, stavano lavorando con me, per capire se erano, adatte, ad imbarcarsi in qualcosa, di veramente serio, che sarebbe dovuto durare anni, e soprattutto, per capire se, erano pronte, e anche ad accettare, che le cose andassero male, insomma, una specie di stress test, e, infatti, una persona ha deciso, di tirarsi indietro, che è la persona, che si sta occupando, della parte legale, quindi, noi eravamo, a un paio di settimane prima, dalla chiusura, forse una settimana prima, dalla chiusura dell'investimento, e, un membro del team è saltato, che non è una sensazione bellissima, e, e quindi, niente, poi alla fine, se l'abbiamo chiuso, senza, un team member fondamentale, volendo, non esattamente, facilmente sostituibile, volendo, nel senso che, non era, una persona, di sviluppo, perché la parte legale, alla fine, alla fine, è un'applicazione web, con una parte legale, molto, molto solida, molto importante, però, potevamo aspettare un po', per costruirla, fare il resto, e, quindi, comunque, in quel periodo, ci siamo messi, all'opera, ho parlato con tantissime persone, per cercare di capire, chi potesse essere, il team member mancante, e in più, mi sono riservato, poi, di dargli, rispetto agli investitori, di dargli, io, mie quote, personali, per, insomma, per, per tirarlo dentro, così è stato, infatti, poi questa persona, è Carlo Rossi, che, insomma, ha, un'esperienza fantastica, lui ora lavora in Freshfields, poi, insegna in Bocconi, tante cose, e, e, quindi, anche lui, ho incontrato un po', per caso, lui, anche lui, un po' per caso, frequentava il mondo delle start-up, e, ci siamo presi sei mesi, per conoscerci, e lavorare insieme, lui ha, ha dato un sacco di contributi, senza avere nulla in cambio, per sei mesi, e poi, dopo sei mesi, a giugno di quest'anno, abbiamo, gli ho ceduto una parte delle quote, per, insomma, per, per un impegno, più serio, lui, comunque, rimane all'esterno, di confere l'impresa, nel senso che, tiene il suo lavoro, perché non abbiamo ancora soldi, per retribuirlo, però, insomma, abbiamo degli accordi, ne ho 30, ok, quindi, è un giovane, beh, un giovane avvocato di Freshfield, non ho pensato, Freshfield, è uno dei più grossi studi, di, di avvocati nel mondo, insomma, quindi, sì, sì, lui è molto, molto bravo, sarà l'unico in giacca e cravatta, quando vi incontrate, sì, anche se, insomma, sa essere sobrio, senti, ma, che cos'è la cosa che ti fa dire, questo qui, va bene come socio, cioè, è una persona di cui mi fido, e con cui posso, condividere questa, questa cosa, cioè, alla fine, non, io penso che con le persone, devi lavorarci insieme, poi io, essendo stato mollato, tante volte, non so, ho elaborato un po' di capacità, guarda, io ti dico, nel progetto che avevo prima, che poi, io, quando ho iniziato seriamente, UBENDA, e che eravamo, televideo, era, un anno, qualcosa fa, quindi, circa settembre, l'anno scorso, e in quel periodo, cresceva del 30% al mese, in termini di traffico, insomma, ogni due mesi e mezzo, raddoppiava il traffico, era arrivato, insomma, a 300 mila pages al mese, un progetto, totalmente a costo zero, per me, in termini di tempo, anche, e in quel periodo, avendo un progetto, che cresceva così tanto, non riuscivo a trovare sviluppatori, che mi aiutassero, e, in, in tre anni, ho cambiato quattro persone, che hanno, cioè, quattro persone diverse, oltre me, hanno messo le mani sul codice, hanno lavorato, per periodi di tempo diversi, da una settimana, a un anno, e poi hanno mollato, cioè, che è una, veramente frustrante, perché tu, sei sempre punto a capo, e, e poi, anche, anche prima, cioè, la difficoltà nel coinvolgere le persone, un po', l'ho imparato a, a riconoscere, quando c'è un commitment, oppure no, dove sono i punti deboli, poi a volte, eh, tu accetti di collaborare, una, con una persona, sai anche, dove, dove quella persona è mancante, dove ti potrebbe mollare, oppure, qual è il suo costo opportunità, devi farti un po' di ragionamenti, e capire, come, qual è il punto di quella persona, che è cruciale, per, per, per guadagnarti il suo coinvolgimento, e, poi, comunque, eh, secondo me è fondamentale, prendersi un po' di tempo, per lavorarci insieme con la persona, prima di, fare un accordo serio, e poi, volendo, essendo anche un po' furbi, se fai un accordo, puoi anche prevedere, dei, insomma, dei, dei, dei disincentivi, tanto se si fa un'impresa, comunque c'è qualcosa di scritto, e se si fa un accordo fra i soci, di qualunque tipo, si mette nello statuto, si può, eh, disporre, per esempio, un obbligo di vendita, in caso di, non, non, non impegno orario, intotto, entro x mesi, queste cose qui, sono fattibili, eh, possono, diciamo, sono fatte, in teoria, per non essere utilizzate, a causa di questo tipo, però possono, aiutarti a far capire, l'altra persona, se sta facendo sul serio, dipende da quanto, di buon gatto, accetta una cosa del genere, cioè se, certo, insomma, poi comunque, lavorandoci insieme, si capiscono tante cose, se tu inizi, a chiedere alle persone, di rispettare, eh, degli impegni, dopo un tot, vedi se li hanno rispettati o meno, già si capisce se, eh, insomma, dove stai andando. Senti, eh, dunque, tu hai più di un investitore, perché inizialmente, il primo che è entrato, è stato Dettori, quindi. Sono entrati tutti insieme, perché io volevo, io, ora da, di Camillo e Magno Cavallo, quindi tutti come Angel, fondamentalmente. eh, eh, di Pixel, come dietro, insomma, dietro Gianluca. Ok, c'è il fondo. Sì, sì, comunque c'è la società di investimento, quindi loro in realtà sono un VCP vero e proprio, anche se, eh, per noi hanno fatto un'eccezione, perché il nostro è veramente un micro seed, anche per loro è molto piccolo, loro hanno messo, eh, 45 euro circa, quindi, insomma, è un investimento molto piccolo per loro, è, è stata veramente un'eccezione, e poi, eh, insomma, io ho spinto per questa cosa, abbiamo anche, li abbiamo anche premiati in termini di valutazione, credo, quindi, c'è stato abbastanza un bilanciamento fra il fatto che noi non avevamo neanche un prototipo, però c'era un team serio, insomma, sei mesi passati a, insomma, da parte loro a mettermi alla prova e ad avere conferme, e, e quindi alla fine credo che l'accordo finale sia stato giusto. Senti, li senti i tuoi investitori? Vi sentite regolarmente? Al di là, diciamo, delle, delle, delle formalità, no? Comunque, immagino che avrete stabilito che ogni tanto dovete fare un stato avanzamento lavori, o via di seguito. No, guarda, non c'è niente di tutto ciò. No? Ok. No. Vabbè, vi sentite con, vabbè, a parte che di Camillo riuscire a, a tenerlo fermo per cinque minuti di seguito, è, insomma, abbastanza un'impresa. No, io, io in genere li mando, io, gli mando una mail ogni tanto quando c'è qualcosa di serio a dire, cioè nel senso che, eh, parli a tutto molto informale, loro non mi hanno dato nessun tipo di vincolo di niente. veramente il nostro investimento è leggerissimo, poi magari anche per sfatare quello che si dice in giro, no? Che gli investitori italiani, no? Ti mettono 3 mila lacci, nel mio caso, non so se è così, poi nel mio caso non è stato per niente, perché è veramente un investimento, entità piccola, però, noi facciamo quello che ci pare, neanche, non abbiamo nessun, niente, insomma, nessun vincolo, neanche in termini di reporting. Ma in termini invece di supporto, cioè, non so, vi sentite? In termini di supporto, io, ti dico, parlo continuamente con loro, poi, ognuno di loro, io ho cercato di mettere insieme, delle persone che potessero dare un contributo, cioè, ho in mente esattamente cosa mi aspetto da ognuno di loro in termini di network, di competenza, volendo ho cercato di collaborare degli investitori che fossero anche degli advisors, no? Certo. E quindi, per esempio, Marco è una persona che in termini di prodotto, ha una competenza straordinaria, quando devo fare delle decisioni di prodotto e ho bisogno di consiglio, gli mando una mail e lui è sempre molto acuto. Mentre Gianluca, così come Andrea, hanno soprattutto il network da loro parte, perché non sono persone propriamente di prodotto, e sono state fondamentali, e lo saranno ora nei prossimi periodi, sia per mettere sul piatto, sul tavolo delle partnership, che per noi sono fondamentali, su cui stiamo lavorando, oppure per raccogliere investimenti successivi, su queste cose sono fondamentali. Poi io gli mando una mail ogni tanto, gli spiego come sta andando, quali sono le mosse che farò a breve, e via dicendo. Senti, passaggi di crescita, a parte il prodotto, dovete uscire dalla beta, quindi lanciarlo commercialmente. Sì. Accanto a questo, l'idea che ti sei fatto tu di UBENDA, nei prossimi anni, dal punto di vista della impresa? Guarda, intanto noi abbiamo fatto un lavoro di sei mesi, che è stato un lavoro molto umile con gli utenti, beta. Scusa un attimo. Ok. Negli ultimi sei mesi, intanto noi abbiamo fatto un lavoro molto umile con gli utenti beta, per mettere inizio il prodotto, e ripartire, cioè riconsiderare tutto, e costruire un redesign, che fosse adattato sulle loro esigenze. Il redesign che in pratica è completo, mancano le ultime cose, e che lanceremo il mese prossimo. Quindi tra poco si vedrà il frutto, intanto nei primi sei mesi. Poi l'idea che mi sono fatto è questa, che noi siamo all'incrocio fra due ambienti che ancora non si toccano, cioè quello legale e quello tecnologico. Noi ora abbiamo preso questa applicazione di questo incrocio strano, che è la privacy policy, che è molto facile da azionare e da risolvere, è una necessità molto pratica, e anche vicina al tipo di persone, di clienti che noi conosciamo, perché in termini web io faccio cose da anni e da anni, così il mio socio, e insomma capiamo quel tipo di cliente. Poi ci sono, questo è un approccio, quello che abbiamo seguito, di modularizzare un documento legale, e renderlo generabile da una persona comune, senza necessità di assistenza. Questo è un approccio, un modello che si può estendere a qualunque documento legale, e anche a qualunque passaggio della burocrazia legale, che oggi è assolutamente priva di tecnologia. Quindi questo è il modo in cui vedo che si espanderà l'impresa. Se ci pensi è veramente far west, questo tipo di integrazioni, magari anche in altri settori, però secondo me il mondo legale è veramente ancora molto lontano da tecnologia. No, sicuramente ci sono molti contratti che sono standardizzabili, anche proprio contrattualistica, perché mentre la privacy è una cosa abbastanza unilaterale, tu dichiari come fai il trattamento alla privacy, nel caso di un sito uno accetta, non è che è oggetto di negoziazione la privacy. Nel caso di altre tipologie di contratto, ci sono contratto che sono oggetto di negoziazione, ma in realtà nella stragrande maggioranza dell'impianto del contratto sono contratti standard. Sì, il 90% dei contratti. Le locazioni, le cose che sono quasi sempre ripetive. Poi guarda, quello che mi dicevano, prima che io iniziassi a studiare il problema della privacy, tutti mi dicevano, no ma come fai, non è possibile. Stessa cosa, ora noi stiamo lavorando sui termini di servizio e tutti mi dicono, no ma come fai, non è possibile. Il discorso è che poi alla fine, nonostante non sia possibile, ci riusciamo. Vabbè, ma questo insomma, chi innova il non è possibile non lo prende in considerazione come opzione. No, infatti. Senti, ti ringrazio, sono una buona mezz'oretta che parliamo, il tempo passa quando le cose sono interessanti. Innanzitutto, tanti auguri per il 2012, visto che tra un paio di giorni è capodanno. Grazie. In bocca al lupo per UBENDA. Crepi lupo. Ciao Andrea. Ciao. Ciao ciao.